Potrebbe essere iniziata davvero la tanto attesa controffensiva ucraina, ma non si capisce bene. In Italia invece la regione Lazio sceglie di ritirare il patrocinio dal Pride, la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQ+, per via della questione della maternità surrogata. Parliamo anche delle microplastiche che sono state trovate in elevate concentrazioni anche nelle acque più remote della Terra. Io sono Andrea Linocenti, oggi è il 7 giugno 2023 e questa è la mia rassegna, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Ormai se ne sente parlare da diversi mesi, però ecco, forse qualcosa sta iniziando a succedere realmente, o forse no. Sto parlando della controffensiva ucraina e il sottotesto è sempre quello. È difficile, è quasi impossibile capire come stanno le cose sul fronte, anzi sui vari fronti del conflitto in Ucraina. Al netto di ciò, e prendendo tutte le notizie con le pinze, in quanto sul fronte lavorano pochi giornalisti occidentali, pochi giornalisti in assoluto, e comunque non sono liberi di muoversi come e dove vogliono, quindi molte delle notizie che ci arrivano provengono più o meno direttamente o indirettamente da fonti di intelligence e dagli eserciti. Comunque, premesso tutto questo, negli ultimi giorni sono arrivati diversi segnali che fanno pensare, o perlomeno fanno parlare gli analisti, che starebbe iniziando, forse è già iniziata, la controoffensiva dell'esercito ucraino contro quello russo, di cui si parla ormai da diversi mesi. Che sarebbe la controoffensiva ucraina, semplicemente una sorta di attacco, di fase offensiva della guerra, che è volta, non ovviamente a conquistare terreni nel territorio russo, ma a riconquistare terreni persi durante il primo attacco, diciamo, dell'esercito russo. I segnali in questione, come spiega un articolo del Post, sono piccoli avanzamenti di alcune unità ucraine sulla linea del fronte, nelle regioni del sud-est, fra le città di Saporizia e Donetsk. Rimangono piuttosto difficili da interpretare, però, anche perché l'Ucraina ha smesso di commentare ogni notizia sull'eventuale inizio di una controoffensiva ed è possibile che ci voglia molto tempo per capire se questi movimenti di questi ultimi giorni facciano parte, effettivamente, di una controoffensiva o siano solo dei, diciamo, regolari spostamenti delle truppe all'interno del conflitto, sullo scenario del conflitto. Lunadì il New York Times ha parlato di un aumento di colpi di artiglieria e di un'offensiva via terra compiuta dagli ucraini, senza però fornire ulteriori dettagli sull'area precisa, in cui sarebbe avvenuta. Ma allo stesso giorno la Russia ha fatto sapere di aver respinto un vasto attacco ucraino nella regione di Donetsk, anche se questa informazione è stata accolta con molto scetticismo da analisti ed esperti occidentali. Quindi, insomma, fate sempre le vostre... fate la tara a tutte le cose che ci arrivano in un senso e nell'altro. Sul Guardian, invece, il giornalista esperto di difesa e sicurezza Dan Sabag ha analizzato alcuni aggiornamenti forniti dai blogger russi che si occupano di guerra e li ha analizzati sia ad uno ad uno che presi tutto assieme. Perché, come fa notare, mi sembra un ragionamento abbastanza sensato, il giornalista del Guardian, se presi ad uno a uno, queste analisi sono da apprendere appunto molto con le molle, messe assieme ci possono fornire dei dati utili perché si possono trovare delle linee comuni, dei punti comuni che magari sono più attendibili rispetto ad altri tipi di interpretazioni. Comunque, il quadro che ne emerge complessivamente è che, secondo molti blogger russi, l'esercito ucraino è avanzato di circa due chilometri a Novo Donetsk, a nord-ovest di Donetsk, penetrando il fronte difensivo russo e occupando una posizione difesa dai soldati russi. Secondo Sabag, queste non sono operazioni esplorative del territorio ma attacchi che hanno l'obiettivo di trovare punti deboli nel fronte russo. La Russia, dal canto suo, si sta preparando da mesi a questa controffensiva e diversi analisti di immagini satellitari hanno affermato che l'esercito russo ha scavato moltissime trincee e fossati nelle zone in cui le sue forze potrebbero essere più probabilmente attaccate da quelle ucraine. Secondo invece quanto riporta il New York Times, alcuni esperti militari statunitensi ritengono che le unità ucraine abbiano iniziato un'offensiva per determinare la posizione e la forza delle truppe russe in una tattica che è una tattica usata a quanto pare abbastanza spesso dagli Stati Uniti in guerra e che avrebbero insegnato gli stessi Stati Uniti all'esercito ucraino che si chiama ricognizione con la forza. Ovviamente su questo fronte non possiamo fare altro che accogliere queste notizie, così darle e cercare di inquadrarle in una cornice generale che è sempre quella, mi rendo conto di essere a volte ripetitivo, ma così dell'incertezza, della poca sicurezza, perché in uno scenario di guerra questo è quello con cui abbiamo a che fare quotidianamente. E poi aspettare, aspettare se arriveranno altre notizie che confermano o invece magari smentiscono queste prime tesi e interpretazioni. Quindi non ci resta da fare altro in questa fase che aspettare nuove notizie, nuovi aggiornamenti. L'altra notizia importante che riguarda la guerra in Ucraina è che è crollata la diga di Nova Kakovka. Come al solito c'è anche qui un rimpallo di accuse fra il governo ucraino e quello russo, ma di fatto si è aperta questa grossa falla che ha fatto crollare parte della diga e defluire tutto il bacino d'acqua artificiale che la diga in qualche modo conteneva. Il crollo di questa enorme diga sta facendo parlare molto, non solo per il fatto in sé, ma anche e soprattutto perché è proprio da quel bacino d'acqua che viene pescata l'acqua per raffreddare la centrale nucleare di Saporizia, che è la più grande d'Europa, di cui si è parlato molto nel corso di questo conflitto perché è stato anche teatro di alcuni scontri. L'acqua viene prelevata da questo grosso bacino artificiale, viene portata in un piccolo laghetto di raffreddamento e poi l'acqua di questo laghetto raffredda direttamente la centrale. Quindi in molti si sono immediatamente chiesti se non ci sia un rischio per il raffreddamento dei reattori della centrale. In realtà fortunatamente pare di no, almeno per adesso, perché come scrive l'inviato da Kiev del Guardian Julian Borger, almeno per il momento il crollo della diga non rappresenta una minaccia per la sicurezza della centrale nucleare di Saporizia, situata più a monte, però avrà implicazioni a lungo termine per il suo futuro. Questa versione è stata confermata sia dai vertici dell'Agenzia Internazionale per l'Agenzia per l'Energia Atomica, sia da la società che gestisce la centrale in Ucraina, gestiva anche perché al momento è sotto il controllo russo. Comunque in questo momento 5 dei reattori sono in stato di arresto a freddo, vuol dire spenti completamente e raffreddati, quindi diciamo non più pericolosi, e solo uno è in arresto a caldo, ovvero mantenuto a una temperatura comunque elevata, attorno ai 200-250 gradi Celsius, per facilitarne il riavvio se le condizioni lo consentissero e per comunque fornire il riscaldamento invernale alla vicina città di Energodar. La situazione va comunque monitorata, perché appunto al momento c'è ancora acqua a sufficienza nel laghetto di raffreddamento che veniva alimentato dal bacino artificiale, ma questa potrebbe durare solo ancora pochi mesi realisticamente e a quel punto non si sa esattamente cosa succederà, chi sta monitorando o monitorerà che la situazione resti sotto controllo, chi eventualmente aggiungerà altra acqua, perché appunto tutta la zona è controllata al momento dall'esercito russo. Un'altra notizia che sta facendo molto discutere e anche scatenando diverse polemiche è la decisione della Regione Lazio, comunicata lunedì, di revocare il proprio patrocinio al Roma Pride 2023, ovvero la parata promossa dai movimenti che difendono i diritti delle persone LGBTQ+, e che doveva, insomma, sterrà comunque a Roma il 10 di giugno, e che doveva essere patrocinata sia dal Comune che dalla Regione Lazio. La manifestazione aveva ottenuto in un primo tempo il sostegno della Regione, come succede ormai da 10 anni, ma a 5 giorni dall'inizio della parata, il presidente Francesco Rocca, alla guida di una coalizione di destra, ha deciso che il simbolo della Regione non dovrà più comparire nella manifestazione. Il nodo centrale di questa decisione, perlomeno per come è stata poi comunicata, sono le posizioni riguardo al tema della gestazione per altri, ovvero la forma di procreazione assistita, nota anche come maternità surrogata o utero in affitto, un tema caldo della politica italiana in questo momento. Nel manifesto dell'evento, infatti, intitolato Queer Esistenza, ci sono molte critiche alle posizioni sui diritti dell'attuale governo Meloni e in un passaggio si legge esplicitamente Per la Regione questo testo promuove comportamenti illegali, quindi la Regione non può sostenere manifestazioni che promuovono comportamenti illegali. Questa cosa si inserisce in un dibattito più ampio che si è tenuto anche all'interno del Parlamento italiano in cui il governo ha una posizione molto contraria alla maternità surrogata, ha chiesto esplicitamente ai sindaci italiani di non riconoscere più, di non certificare nell'atto di nascita i genitori non biologici derivanti appunto da una forma di maternità surrogata e quindi insomma è un tema molto caldo. Inoltre è arrivata una richiesta anche specifica al Presidente della Regione Lazio dal Movimento Antiabortista Pro Vita e Famiglia che aveva definito il sostegno della Regione schizofrenico viste le posizioni del governo sul tema. Ma che cos'è la maternità surrogata? Immagino che più o meno lo sappiate, ma insomma per riassumerla in poche parole è un tipo di maternità in cui una persona porta avanti la gravidanza per conto di qualcun altro, è un tema molto delicato e per alcuni aspetti anche controverso perché ad esempio come ci raccontava tempo fa Roberta Trucco in una vecchia puntata di Ispirazioni che era il format che Daniel Tarozzi conduceva assieme a Darinca Montico, in alcune parti del mondo la maternità surrogata è diventato anche un business completamente senza regole dove è un po' tutto permesso. Quindi insomma per dire che la questione non è poi così semplice da dirimere, ma come al solito sarebbe molto più utile e interessante avviare una riflessione collettiva a livello sociale magari proprio anche in occasione del Pride su questo argomento più che appunto proibire le cose a prescindere prima ancora di discuterne, prima ancora di conoscerle a fondo. Comunque come immaginerete questa decisione ha scatenato su Rocca una pioggia di critiche non solo dagli organizzatori dell'evento ma anche dalle opposizioni sia a livello locale che nazionale e in più il portavoce del Roma Pride Nicola Colamarino ha definito questa revoca una vergogna e ha accusato il governo della regione di rispondere a pressioni del movimento Pro Vita e Famiglia che ha sostenuto Rocca in campagna elettorale e del governo nazionale. Dal canto suo invece il presidente Rocca in un'intervista alla stampa ha negato di aver ricevuto pressioni sostenendo di aver concesso il patrocinio in buona fede ma di essersi sentito oggetto di una strumentalizzazione vergognosa. Non ha detto di chi ma immagino da parte dei movimenti organizzatori del Pride o della classe politica di sinistra essendo i suoi avversari non so onestamente dire chi abbia più strumentalizzato questa vicenda lui ha detto sono stato ingannato esplicitamente insomma comunque comunque al di là delle dichiarazioni di Rocca credo che sia un argomento importante da discutere davvero fuori al di là di questo specifico evento da discutere in maniera più estesa e un po' esterna possibilmente anche se è veramente molto difficile alle logiche di maggioranza minoranza destra sinistra alle ideologie o alle idee ai peri concetti perché come dicevo è un tema a mio avviso abbastanza delicato e che meriterebbe una trattazione delicata non urlata non fatta di accuse reciproche offese ma fatta appunto di molto ascolto non so se c'è lo spazio sociale politico culturale in questo momento in questo paese per un tipo di ascolto del genere ho qualche dubbio però ecco il mio auspicio è che si possa cercare di ricavare uno spazio anche piccolo di confronto costruttivo su questo tema così importante concludiamo con una notizia legata al tema della plastica anzi delle microplastiche ancora sul Guardian Yvonne Gordon racconta come i marinai che testano le acque durante la Ocean Race che è una sorta di regata che attraversa alcuni degli ambienti oceanici più remoti del mondo hanno trovato microplastiche in ogni singolo campione di acqua prelevato cosa devo dire abbastanza inquietante anche se ormai non più così tanto sorprendente in alcune località sono state trovate fino a 1884 particelle di microplastica per metro cubo di acqua in mare che insomma ovviamente sono un bel po' un numero fino a 18 volte superiore a quello rilevato in test analoghi effettuati durante l'ultimo Ocean Race che si era conclusa nel 2018 quindi 5 anni fa gli scienziati però hanno notato che la sensibilità degli strumenti è più elevata adesso quindi può darsi che la differenza reale sia minore o comunque molto diversa però ecco questo non è comunque una buona notizia i campioni sono stati raccolti durante le tappe iniziali della gara che è iniziata a gennaio e termina a luglio e attraversa l'oceano atlantico meridionale vicino a una località che è considerata la più lontana della terraferma esistente sul globo terraqueo quindi nel luogo più remoto che esista nei mari e anche lì appunto le concentrazioni di microplastiche sono state trovate sono state trovate anche in quantità elevate comunque in generale le concentrazioni più elevate sono state riscontrate in prossimità delle coste mentre i campioni prelevati vicino all'area più remoto del pianeta Point Nemo che dista 2688 km dalla terraferma in tutte le direzioni hanno rivelato 320 particelle di micropastica per metro cubo rispetto alle 9 tra le 9 e 41 che erano state rilevate nella ultima gara insomma che dire stiamo riempiendo gli ecosistemi di un materiale praticamente eterno che finisce nella catena alimentare e di cui non conosciamo fino in fondo gli effetti non sono gli ingredienti per una storia che va a finire benissimo secondo me forse credo che sia il caso di smettere di produrre la plastica e di consumare la plastica da adesso ci sono trattati internazionali ci sono summit le Nazioni Unite stanno cercando di fare immaginare una via di uscita per quello che possiamo fare anche nel nostro piccolo smettere di usare la plastica e ancora di più smettere di usare qualsiasi cosa che sia usa e getta dagli imballaggi a appunto gli oggetti monouso direi che è una delle priorità in questo momento storico una delle tante va bene detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qua io prima di concludere visto che è una puntata stata abbastanza breve vi ricordo che se volete potete abbonarvi a Italia che cambia per fruire dei contenuti in più ovvero una serie di podcast per abbonati lunghi la possibilità di partecipare a degli incontri zoom con la redazione Italia che cambia e insomma poi tante altre cose che vi presenteremo nei prossimi mesi ecco potete appunto abbonarvi sono 50 euro all'anno meno di un caffè a settimana insomma mi sembra una cifra abbastanza abbordabile per quasi tutti e ecco noi siamo contenti che i nostri contenuti arrivino sempre più persone detto ciò io vi saluto vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di io non mi rassegno sempre a partire da 8 su canali youtube spreaker e spotify nonché sulla pagina rassegna stampa cambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto ciao